Con il numero 6 da Silva, con il numero 8 Diego, con il numero 11 sulle mani, con il numero 13 Daga, con il numero 19 Esteba, con il numero 22 è il prinsipe Diego Alberto, con il numero 9 da Silva, con il numero 8, con il numero 14, con il numero 15, Green, con il numero 18, Svazzo, con il numero 23, Mattia Lazzi, con il numero 29, Donati, con il numero 45, Badotelli, all'epoca! Maldita! Io sono! Udita! Udita!